Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da due Patreon diversi, ovvero Rea e Vincenzo, che mi chiedono di parlare del film del 2021 della Sony Animated, diretto a quattro mani da Mike Rianda e Jeff Rowe, i Mitchell contro le macchine. Mitchell contro le macchine, la storia è quella appunto dei Mitchell, una famiglia abbastanza strana, con la figlia che è la protagonista, Katie, che praticamente vuole fare la cineasta sin da quando è bambina e che è riuscita a entrare nell'Università di Los Angeles appunto per fare il cinema. Suo padre, Rick, invece è uno fissato con costruire tutto e ammanettare qualunque cosa e va in scontro parecchio con la figlia perché non vanno assolutamente d'accordo sulla possibilità appunto che la nostra possa diventare una cineasta. In più c'è il fratellino, Aaron, che è fissato con i dinosauri e parla solo di questo e in più la madre, Linda, che sembrerebbe insomma cercare di, in un certo senso, mediare fra tutti quelli che sono in famiglia e più il Carlino, il cane con gli occhi torti che si portano dietro. E i nostri, praticamente, che cosa succede? La nostra viene accettata, litiga con il padre, il padre per sentirla più vicina le dice e li propone di fare il viaggio fino all'università insieme. Lei è praticamente contriarissima ma la madre insiste e partono per questo viaggio. Cosa succede? Durante questo viaggio però un'applicazione del cellulare praticamente si incazza con il suo creatore che ha portato questi robot appunto ad essere il prossimo passo della tecnologia e si incazza con il suo creatore quindi decide di eliminare tutta l'umanità e far diventare tutti i robot suoi schiavi. Ci riesce ma gli unici, i Mitchell, sono quelli che buttano via i telefoni per un modo o per un altro insomma rimangono senza roba tecnologica e quindi possono sconfiggere grazie anche a un sistema appunto che lei ha per iniettare un virus e fattornare tutto insieme possono sconfiggere le macchine di lì e quindi la battaglia dei nostri contro questo iPhone praticamente questa è più o meno la logica. Per un film scritto veramente in maniera molto divertente, un film che non ha momenti di stanca ha un ritmo veramente indiavolato e un sistema grafico notevole. I disegni sono bellissimi, un'animazione fantastica con questo unire 3D, 2D, questi incredibili momenti in cui si accende di ilarità perché è un film che fa veramente ridere, un film comico che funziona alla stragrande dove questi personaggi sono tutti perfettamente stilizzati, la ragazzina che vuol fare la cineasta è molto divertente e empatizzi con questa ragazza insomma che è una nerd ma in un certo senso ha un talento enorme, empatizzi anche col padre Rick perché è talmente lì fuori che è una specie di Homer Simpson un po' più intelligente ma siamo lì e quindi empatizzi con quest'uomo che cerca in tutti i modi di fare qualcosa per la figlia ma che non si rende conto che forse vuole fare qualcosa solo per sé. Splendida la madre che cerca di essere sempre a modino, cerca di mediare con tutti finché poi nell'ultima mezz'ora non diventa una grandissima combattente modello appunto Trinity di Matrix. E in tutto questo abbiamo il Carlino che è fantastico per come riuscirà a combattere il robot senza saperlo, tocca poi scoprirlo e insomma la famiglia continua ad essere interessante anche con il bambino che ripeto apre questa cosa di dinosauri e che non vuol per sentire parla d'altro. E' un film che funziona proprio a step nel senso che è un film pieno zeppo d'azione va detto, è un film ritmatissimo dove se il film inizia con la prima parte è anche abbastanza dolente con questa famiglia che insomma litigano tutti, cercano un certo senso di andare d'accordo ma non è la classica famiglia americana che tutti insomma vediamo nei classici film tutti belli, tutti precisi, anzi sono la classica famiglia di schizzati un po' di testa, e questo è molto piacevole e porta un'empatia più o meno per tutti i personaggi che sono tutti simpatici. Certo il film mette al centro un'altra volta la famiglia, non è una cosa nuova la famiglia è al centro di quasi tutti i film per bambini e per famiglia e qui però nonostante qualche retorica un po' rompicoglioni che c'è in tutti i film però viene talmente presa in un certo senso anche presa per il culo da se stessa, dalla sceneggiatura che in un certo senso poi il messaggio vero che può arrivare è in realtà quello di non farsi mangiare dalla tecnologia ma di utilizzarla essenzialmente per cose buone quando come quello di discute diciamo col creatore per altre cose che non vi sto a dire perché se uno magari non l'ha visto neanche vi posso sputtanare tutto il film. Ma è un film che diverte divertentissimo, l'Enric che ha il suo modo di fare il padre il salto con la macchina nostra che riprende qualunque cosa, l'idea del Carlino Poliziotto è geniale e ripeto il film ha dei momenti veramente altissimi di pura comicità che non si trovano assolutamente ormai nelle commedie fatte ultimamente, l'avventura poi prende piede tutta la seconda parte se la prima parte diciamo è più di conoscenza e quindi le psicologie dei personaggi vengono comunque tutte fuori perché per la prima ventina di minuti discutono fra di loro e quindi capiamo perfettamente l'inizio del viaggio, poi loro si trovano appunto in questa tavola calda in un momento in cui scoppia il mondo praticamente scoppia la coppola apocalisse e i nostri amici pur goffi pur completamente nemmeno troppo intelligenti messi insieme completamente fuori diciamo dalla logica della classica famigliola invece americana riescono a portare il tutto a casa proprio per la loro unione e la loro follia totale nel creare dei priani uno più fole dell'altro e questo è veramente divertente così come sono divertenti tutte le parti nel terzo atto quando in realtà poi l'azione la fa da padrone perché a quel punto il film diventa un action puro chiaramente con le risalte e tutto quello che vi pare ma è una rincorsa contro il tempo per cercare di fermare appunto questa iPhone prima che distrugga praticamente mandi nello spazio tutta tutti gli abitanti della terra in tutto questo chiaramente è molto interessante ripeto come si attacca e non è nemmeno troppo velatamente un mondo controllato fatto essenzialmente di applicazioni e roba che non serve non cazzo e come si discute però di come in realtà la tecnologia stessa debba essere utilizzata bene e si possa essere utilizzata come la bimba per fare dell'arte o della roba molto interessante quindi un film che va su molti piani di lettura più o meno tutti i riusciti ripeto perché per me è veramente un ottimo film uno dei cartoni animati che mi è piaciuto di più degli ultimi anni proprio perché è un'animazione come ho detto interessante per com'è tecnicamente è musicata molto bene ha dei colori è un'idea appunto di messa in scena che è ottima i due registri riescono proprio a fare una bella regia dei bei movimenti di macchina un film d'animazione che si mangia praticamente il 90 per cento di tutti i film del genere avventurosi azioni di famiglia e commedia così usciti non live action un'altra volta ci si capiamo come mai l'animazione vola avanti questi poi sono quelli della sonia di method che poi hanno prodotto anche i vari spider-man across di via cross di lacca e si sono rivelate anche quelli delle bombe e questo mitchell ripeto ha una grande forza grafica una grande forza nella scrittura e soprattutto riesce a mettere tutto insieme a livello cinematografico i mezzi funzionano e ripeto nonostante il film sia una grande corsa perché almeno per la metà è un film d'azione pura non ci si dimentica mai l'ironia non ci si dimentica mai la critica sociale non ci si dimentica mai insomma di creare personaggi che abbiano qualcosa da dire ripeto l'unica cosa che per me è molto soggettiva è sempre messa in mezzo sta cosa la famiglia la famiglia la famiglia è un po' una cosa così un po' qualunquista però in questo caso funziona perché questa è una famiglia in un certo senso di disadattati tutti adorabili e quindi non ci sono cascato anch'io perché questa famiglia è la famiglia che probabilmente tutti avremmo voluto avere nella sua totale follia quindi un film che funziona ripeto su tutti i punti di vista è comico è avventuroso c'è l'azione c'è dei bei personaggi è fatto di lusso e quindi è un film che consiglio a tutti perché è un'animazione che non si vede tutti i giorni che dovrebbe essere di molto sponsorizzate di molto uscire nelle sale purtroppo se l'è preso netflix ma esiste il blu ray lo metto qui sotto donate su patria mi piace iscrivetevi al canale e seguitemi su facebook e su instagram per sapere che cazzo faccio giro per l'italia e povero di dio questo è i mici del contro le macchine è un'animazione fantastica riesce a sfondare riesce ad avere veramente una forza di urto visiva notevole riesce ad averla anche a livello di scrittura perché ripeto i personaggi sono tutti ben delineati anche i cattivi anche quelli che stanno intorno per esempio i magnifici vicini di casa con la bambina splendida e loro che sembrano praticamente perfetti con un finale come ho detto che è un delirio per un film assolutamente metacimatografico nel quale praticamente chi come me conosce la fantascienza e tutto può ritrovare 6700 film è un film che secondo me però anche i vicini ragazzini bambini possono godersi alla grande perché è colorato e divertente ed è pieno come ho detto di mostri ed avventura e questo è la dimostrazione che si può fare animazione anche per ragazzini però che si rivolge anche a un pubblico adulto che capirà alcune cose che i ragazzini non capiranno ma che si diverteranno alla bestia quindi per me un film assolutamente da non perdere